Al referendum consultivo sulla Brexit, il 96% dei residenti di Gibraltar ha votato per restare in Europa. E mentre si avvicina il via alla procedura prevista dall'articolo 50, sia tra i cittadini con passaporto britannico che tra quelli con il passaporto spagnolo, crescono i timori. La verità è che abbiamo paura, non sappiamo cosa accadrà, nessuno può dirlo. Oggi sentiamo una cosa, domani un'altra, ma sono solo voci. Speriamo che sia giusti tutto al più presto e che possiamo tornare a lavorare come abbiamo sempre fatto. Le due economie sono strettamente interdipendenti e lo dimostrano i lavoratori frontalieri spagnoli e i servizi bancari con molti clienti europei, per citare solo due esempi. Con la Brexit, inoltre, non si esclude l'aumento delle tensioni tra Londra e Madrid per la sovranità sulla rocca alle porte del Mediterraneo. Fabian Picardo, primo ministro di Gibraltar, spiega di non voler girare le spalle all'Europa. Queste tuttavia sono le carte che abbiamo, dice, dobbiamo giocarle nel modo migliore possibile. Il confine tra Gibraltar e Spagna rimase chiuso dal 69 all'82 fino all'ingresso di Madrid nell'Unione Europea. E c'è chi, come il primo ministro spagnolo Rajoy, teme un ritorno al passato.